Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti nell'unica serie del mio canale dove vedrete la doppia prospettiva in compagnia della mia ragazza Ciao a tutti ragazzi io sono Carlio e che Carlio e questa è Cimmia E ragazzi quest'oggi ci troviamo nella nostra vanilla e nel suo episodio abbiamo creato una farm veramente bellissima in stile Candy Craft proprio come piace a me Infatti è stata una mia idea, un'idea geniale se posso Un'idea insieme Quindi iniziamo a raccogliere tutto quanto quello che abbiamo seminato perché abbiamo bisogno di cibo perché quest'oggi Carli andremo in esplorazione Prova a indovinare dove? Andiamo giù al fiume? No non andiamo giù Ti dico andiamo in un punto molto pericoloso di Minecraft È un punto caldo? Sì No no ne ti prego no Andiamo nel nether No no Allora vuoi del cibo? Ne vuoi un po'? No del panino grazie sono già depresso È del panino non dei panini un panino Aspetta che ne prendo un altro po' perché non mi basta io voglio sempre avere almeno 60 di cibo Comunque a me sinceramente questa farm piace tantissimo chissà loro cosa ne pensano È vero cosa ne pensate ragazzi? E la casa non abbiamo fatto vedere la casa In realtà non l'abbiamo modificata la casa Beh no è sempre rimasta uguale Però ho letto alcuni commenti di voi che dicevate che era meglio senza questi supporti che ho messo io E non è vero così con i supporti è molto più bella secondo me Allora andiamo a dare un'occhiata un pochettino dentro Beh posso dire che concordo comunque con i signori che hanno commentato Cioè io adesso l'ho sistemata Ho sistemato la questione delle tue travi però Le mitravi erano perfette così come No guarda Ora sono più belle Vabbè Cosa ci hai aggiunto? I calzini e le scarpe praticamente Venite a vedere Quindi casa nostra è praticamente uguale a prima ancora L'unica differenza sta nel fatto che abbiamo finalmente chiuso il tetto Non ci pioverà più in testa E in realtà dobbiamo modificarlo perché qua è ancora legno Ma è una figata pazzesca State a guardare Eh? Cosa? Eh? Designed by Kendall Il vetro dico cioè il vetro è tutto quello che gli ho messo No Aspetta Ah Ehi Allora dobbiamo andare alla ricerca dell'ossidiana Questa volta faremo un portale vecchio stile Tu sai qual è il portale vecchio stile Carli? Eh sì con l'ossidiana Esatto Però non è come fanno gli speedrunner con il secchio d'acqua Dovremmo andare a prendere l'ossidiana Visto che io nello scorso episodio mi sono fatto il piccone in diamante No guarda aspetta un attimo scusami Qua abbiamo una simpaticissima pozza di lava E io forse Forse Potrei Riuscirei magari a rifare un lavoro che ho fatto con Paris Che me l'ha spiegato Cioè tu vuoi provare a fare un portale d'ossidiana con i secchi d'acqua? Ragazzi Faccio ridere così Eh infatti se vuoi provare No no vabbè Non importa Invece facciamo così guarda Eh esatto Trasformiamo questa lava in ossidiana E facciamo il portale Tra l'altro a me il portale piacerebbe farlo per bene Però facciamo che per oggi lo facciamo un po' così Ecco cosa vorresti dire? No nel senso facciamo un portale normale per oggi E poi oh fantastico E poi negli altri episodi magari lo abbelliamo Lo facciamo gigante Potremmo fare una montagna portale Eh? Ho una bella idea Però io nella mia vanilla ho fatto un fungo portale Un fungo portale? Sì ho fatto un fungo portale Io ho fatto una tv al plasma nella mia candy craft invece Con due schermi di d'ossidiana Siccome in questo mondo stiamo integrando tutta quanta la natura Con le costruzioni visto Abbiamo la casa all'interno della montagna La farm all'interno Sopra una collinetta Potremmo effettivamente fare un portale Nell'albero In caverna? Dove? In mezzo agli alberi Un portale in mezzo Sai che non è male come idea Ti ho illuminato Vedi con le mie stupidaggini a volte Non è male come idea Potremmo veramente fare tipo due alberi giganti E in mezzo tra gli alberi il portale Guarda io ti dico Non stavo assolutamente cadendo nella lava Carli cerca di fare attenzione per favore Allora Andiamo nel nether per prendere uno I nuovi blocchi Quindi per decorare Possibilmente casa nostra Quindi legno blu Legno rosso Funghetti Eccetera eccetera Bello Legno blu Mi piace Anche a me piace Poi Cosa altro ci serve? Ci serve le robe delle pozioni Quindi dobbiamo trovare per forza una fortezza E se abbiamo un po' di fortuna Potremmo esplorare anche un bastione Per prendere un pochettino di oro Dobbiamo andare in un villaggio Nelle chiese A rubare l'alambicco Andiamo a rubare Ai preti del villaggio Ma quali chiese? Le chiese Dei villaggi È lì che si trova l'alambicco Per fare le pozioni Ma tu le chiami chiese quelle? Ale Che? Che c'è? Guarda c'è un albero fungo Ma che stai dicendo? Guardala in alto Dritto a me Ma quello è un fungo È bassa Non è un albero fungo È un albero fungo Cioè tu mi stai dicendo Che non hai mai visto Un fungo di Minecraft Sì però Non è la vanilla Cioè Dai Guarda che poi loro Fanno un casino di meme Sulle cretinate Che diciamo Tipo nel tuo video Io avevo detto Le scole E hanno fatto una meme Aspetta dove sei? Dove sei andata? Sei andata sulla collinetta? No Cioè nel bosco nello Nero dai Il bosco nero Ma tu ti inventi I nomi dei biomi? Un albero fungo Il bosco nero E dove ci sono I tronchi neri? Aspetta sta arrivando Le querce Ma cosa hai fatto? Hai sradicato tutti gli alberi? No io non ho fatto niente È stato Herobrine È vero in effetti Ci sono un bel po' di funghi Sai cosa? Prendiamoli E co No cosa ci si fa? Come cosa ci si fa? Ci si fanno i funghi No Ale Scusa Mi hai scavato sotto i piedi Ma non l'ho fatto apposta Che pazzo Comunque è soddisfatto Soddisfacente Troppo soddisfacente Rompere i funghi Perché guardate Sì anche buttarmi qua giù per terra È soddisfacente Ma come facevi a non saperlo? Quindi tu fino ad ora I funghi li hai trovati solo in miniera? E nel nether Nel nether Sì i funghi Cioè tu non avevi mai visto I funghi normali di minecraft Sì Li ho visti Però li trovavo per terra Ok Hai scoperto una nuova cosa Ok quindi scusami Ci sono anche quelli marroni eh Non so se Se tu lo posso dire Cioè quindi se tu pianti un fungo E poi ci metti il bon mille Ti cresce Un tempo sì Adesso non lo so Ci possiamo provare Come si pianta il fungo Scusa È il fungo Fungo rosso No mi sa che si può piantare soltanto al buio Può essere Al buio? Non mi ricordo È da una vita che non Non tocco i funghi di minecraft Guarda te Ti dà proprio i funghi Vabbè senti L'episodio non è Scusa Si distrae con i funghi per tutto il video No L'episodio è andare in Andare nel nether Quindi andiamo nel nether Dannazione Sì ma Ale Possiamo anche farci le zuppe Sì ma le zuppe sono inutili Le zuppe di funghi Perché ti durano tipo Cioè le mangi E un secondo dopo C'hai di nuovo fame Ti affido un compito Prendi il piccone E continua a scavare dell'ossidiana Non esagerare Cioè scavane tipo due o tre Non troppi Ma ne hai già prese tanto Cosa devo farci io? Eh ci dobbiamo fare il portale E quanti ne servono? Undici? No ne servono dieci tecnicamente Però prendine tutte e dodici dai No perché così lo facciamo completo Che sto facendo? Perché mi faccio sempre crafting? Basta C'ho la malattia delle crafting Faccio in continuazione crafting table Ho anche craftato una crafting table Dentro una crafting table Allora mi faccio Lo vuoi un piccone in ferro nuovo? Eh no grazie In realtà me la sono fatta Uhhh Allora mi faccio l'ascia Dai vieni andiamo a dormire Assata che sto per prendere l'ultimo blocco Ok Io vado a prendere la gravel Vai a letto intanto Mi ho presi undici Cioè servivano dodici Ale l'altro mi è caduto Ho capito Prendilo Ma ho paura degli scheletri Mi mangio Va bene vai a dormire Vai a dormire Io prendo un attimo la gravel Così almeno abbiamo la flint E poi ho paura dei pillager Ho paura che riappaiano in casa No riappariranno Sta arrivando Ma guarda quanto è bella casa nostra da qua sotto Madame Quel piccone sarebbe mio E anche l'ossidiana Grazie E invece no Ehi No Aspetta allora Guarda Lo vuoi fare tu il portale? Sì per favore Ora ridiamo Come se puoi sbagliare mettere il blocco? Appunto Secondo me sbagli Dai Quanta poca fiducia che mi dai Dove devo mettermi? Facciamo così Per adesso ne facciamo uno random Poi lo facciamo bellino Quindi Toh inizia Ma qua è in mezzo Ma guarda che dove lo piantiamo Lo piantiamo eh Sarà lì per sempre Vai fallo Ok Allora Uno Giusto? Sì Giusto Giusto? Giusto Ahà Ok Ah Ok Ah Ok ora Uno Due Tre Ce l'hai degli altri blocchi? Tipo della cobblestone Della legna Sì Ho del granito Ti piace? Vai mettilo Granito Mazza Portale più brutto di questo Ragazzi non lo potevamo fare Granito Cobblestone E gravel Ma ce l'hai un accendino? L'importante però è Che funzioni Quindi entriamo Ho paura No non voglio Non voglio Dai entra No per favore Entra Ho paura Aspetta Ah Cosa c'è? Eh Cosa c'è? Aspetta Resta qua Vado a prendere al volo delle robe in oro Così non ci ammazzano i piglins Vedi se riesci già a trovare tipo una fortezza o qualcosa Tanto Ale ho paura No vabbè No vabbè Ale No No ti giuro Cosa? Abbiamo la foresta Oddio ho lanciato la spada Abbiamo la foresta blu accanto Ho lanciato la spada Perché hai lanciato la spada? Ti faccio Ma tu non hai un elmetto? Ti faccio l'elmetto dai Sì fammi l'elmetto Fammi qualcosa Che schifo Ho chiuso gli slime Sento il gas vicino Però c'è la foresta blu Aspetta vado a prendere l'acqua Ale Sono Sono morta Come sei morta? Sono morta Io non ho parole Mi sono assentato 20 secondi Ma stavo cercando di esplorare Tu hai detto di esplorare Io ho esplorato Ma ho capito Ma come fa Vabbè Guarda sono ancora in fiamme No Non è un problema Allora ho perso tutto Non ci posso credere Tieni Dove sei? Sono qua Dove? Qua Come hai fatto a morire? Ma non l'ho fatto apposta Vabbè ho capito che non l'hai fatto apposta Stavo cercando di fare Perché vicino abbiamo una pozza di lava E poi c'era un po' di parkour da fare Io sono morta nel fare il parkour Va bene E se tu non mi insegni io a fare il parkour Tranquilla Tranquilla Nessun problema Ti faccio tutta l'armatura nuova Vieni Grazie Ma il piccone te l'avevo ridato No Il piccone C'è l'unico piccone che avevamo in diamante Dai amore Possiamo fare con quello in ferro Porca miseria Vabbè Facciamo così Ritorneremo in caverna A prendere degli altri diamanti Carli Però Vieni un attimo con me nel nether Anzi no Prendi qua Grazie E prendi del cibo Grazie Molto gentile Tieni Dai Andiamo Dov'è che sei morta? Magari Magari sopravvissuto Non credo proprio Perché? Sei però finita dentro la lava? Eh sì È stato un tuffo libero nella lava Cioè Quindi l'hai fatta apposta Ti sei proprio lanciata Non l'ho fatta apposta Secondo te Vedi Magari Magari riusciamo a trovarlo Dov'era? Oh 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 Ma c'è il passione Ale Oh Ale Eh Ci sono tutte le mie cose Dove? Anche il piccone? Eh ci sto guardando un attimo No c'è Non ci credo c'è tutto Tranne che il piccone Se non altro Guarda il lato positivo Sono pieno di cibo Allora C'è un bastione Non ho capito Qual è il lato positivo? Sono pieno di cibo Ah C'è un bastione Proprio qua davanti a noi Guarda Non ho più una spada Però vabbè Io non so Ma cos'è tipo Ma è enorme sto bastione No vabbè Siamo spawnati vicino A una foresta blu E un bastione Allora facciamo così Iniziamo a prenderci magari Le robe della foresta Così possiamo utilizzarle Per costruire E al bastione ci penseremo Quando saremo ben equipaggiati Ok va bene Carly Non attaccare i piglin E gli zombie pigman Ok Perché? Ma che cavolo sta succedendo? Un gas Un magma Oddio Ma perché? Tutti qua? Allora il magma Cosa ci facevi con il magma cream? Non mi ricordo Oh aspetta che devo mangiare Pensaci tu Io ammazzo il gas Ce la fai? Ma come pensaci tu? Ma hai lasciato anche senza La spada C'è il piccone Guarda che bello Uccidere un gas Ad altezza Ad altezza blocco Io a dirti la verità Non mi fido molto Dei bastioni Perché Aia Perché ci muoio spesso Anche io Quindi Sinceramente Non mi sento molto assicuro Ehi Ale 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 Oh Dove sei? Ale vedo due ceste Da dove sono io Ok Ok è normale Le prendo Mi sta rubando stivali d'oro Dammi un piccone Dammi un piccone Frammento di nederite Cosa? Te lo giuro Ale Cosa hai trovato? Frammento di nederite Non ci credo Te lo giuro No Carly Carly devi scappare Perché? Perché ora loro ti odiano Perché gli hai rubato le robe dalla cesta No no io non ho rubato niente Dammi il piccone Dammi il piccone Allora Hai trovato la nederite? Si un frammento Porca miseria Dobbiamo scappare da qua Ma ho visto due ceste in realtà Io ti assicuro Che se loro riescono a raggiungerci Ci ammazzano Non siamo ancora preparati Non siamo messi bene Ale guardalo dov'è Guardalo dov'è Stupido Rimanevi incazzato Lascialo lì intrappolato Non siamo messi ancora abbastanza bene Per affrontare un bastione Ci ammazzano Ok va bene Però abbiamo la nederite Eh ho capito Ma con un frammento Non ci fai niente Dai Io direi che Abbiamo esplorato il neder Sappiamo adesso Cosa abbiamo vicino Ci dobbiamo occupaggiare meglio Con i diamanti In modo tale da Da ripulirlo tutto Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un super mi piace Se così è stato Dal vostro candle è tutto Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao